amici di futuro giallo blu ciao ben trovati un nuovo appuntamento del format che vi racconta tutto quanto accade intorno al settore giovanile del modena vi ricordo il nostro classico hashtag in apertura canarini si cresce con il quale potrete condividere anche questa puntata siamo ormai agli sgoccioli anche della nostra stagione mancano un paio di puntate poi anche noi ci prenderemo una piccola pausa ma prima è il momento di raccontarvi il motivo per il quale siamo di nuovo a salicetta san giuliano perché si è disputata nella giornata di sabato una amichevole con protagonisti ragazzi dell'accademia modena e i ragazzi dell'accademia internazionale di milano ovvero la società che fa riferimento proprio all'inter club neroazzurro di milano con un ospite speciale un ospite d'eccezione ovvero l'ex capitano dell'inter avier zanetti che ha fatto visita ai ragazzi sia del modena che naturalmente dell'inter lo abbiamo anche sentito intervistato insieme alle voci di chi conosciamo meglio ovvero dei responsabili dell'accademia modena allora andiamo a scoprire tutto quello che è accaduto sabato a salicetta san giuliano a via zanetti cosa si insegna quando si viene su questi campi la prima cosa credo che sia lo sport e il valore che tu in primi si è insegnato anche credo i tuoi figli e anche a noi che abbiamo visto le tue tante partite in tv no soprattutto vedere che loro si divertono che imparano a stare insieme che imparano i valori dello sport io credo che a questa età loro devono divertirsi tanto va bene fino a un certo punto il risultato perché io credo che alla loro età il risultato non conta conta che si divertano e che possano imparare i veri valori dello sport se ti rivedi da ragazzino da bambino ti rivedi un po in questi ragazzi che cosa ti viene da pensare si viene a pensare tutta la mia infanzia quando io iniziato a correre dietro un pallone dove li iniziavano e i sogni che poi per fortuna sono diventato realtà però mi ricordo la mia infanzia nel mio paese in argentina nel mio quartiere cosa diresti a questi ragazzi se ti chiedessero un consiglio su come intraprendere una carriera non dico ai livelli di aviazzanetti o una carriera da professionista no soprattutto le direi la prima cosa che non smettano mai di sognare sognare bello e soprattutto si veramente loro ci tengono a giocare a calcio che lo facciano sempre con tanta passione ti piacerebbe rimettere gli scarpini quando vedi i ragazzi giocare no ormai sono passati tanti anni però credo che ho dato tutto quello che avevo dentro di me per l'inter per la mia nazionale sono arrivato a giocare fino a 41 anni allora di più non potevo chiedere è stata una bellissima giornata di sport vedere tanti ragazzi che si possono confrontare correre dietro un pallone oggi abbiamo avuto anche la fortuna di avere un ospite in più che il simbolo del calcio del di cosa vuol dire il sacrificio di cosa vuol dire la negazione un esempio per tutti che c'è aver zanetti oggi con noi il rapporto con l'inter è nato tra le persone dall'anno scorso abbiamo intrapreso un rapporto di collaborazione sia sulla visione dei giocatori ma anche sugli stage con le società figliate e su un interscambio quotidiano su tutte quelle che sono le problematiche legate alla crescita dei giovani calciatori mister che giornata è stata per i tuoi ragazzi è stata una giornata sicuramente molto emozionante e bellissima sotto tutti i punti di vista erano super emozionati di aver visto un campione di quel calibro e devo dire che in campo hanno dato tutti l'anima dal primo all'ultimo è venuta a fare una partita bellissima anche da vedere secondo me da fuori è stata molto 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 bella chiedo si vive no per queste partite magari una stagione intera siamo quasi alla fine che a che punto siamo del percorso no siamo un buonissimo punto ci sono stati tantissimi progressi a questo punto dell'anno e adesso comincia con il bello perché siamo pieni di tornei di partite quindi dobbiamo ancora dare tanto però contentissimo di questi ragazzi che ogni giorno ci danno sempre quel qualcosina in più e riescono ad assimilare sempre quello che noi gli chiediamo di fare e gli diciamo a me sembra di capire che sia stata un'annata molto intensa no? Annata intensa innata impegnativa tenete conto che l'accademia quest'anno giocherà più o meno a fine mese oltre 800 gare e quindi siamo stati impegnati su tutto il campo nazionale e abbiamo avuto anche delle bellissime esperienze con tornei internazionali e devo dire che la crescita c'è grazie alla famiglia rivetti che sta facendo grossi investimenti sul tutta l'attività giovanile a partire dai bambini dal prossimo anno avremo un ulteriore salto quindi un bilancio positivo sicuramente una stagione molto impegnativa ma con tante soddisfazioni e abbiamo anche l'idea di avere ottime squadre per il futuro abbiamo presentato i camp qualche settimana fa già i numeri erano molto alti adesso come sono? I numeri sono fantastici nel senso che abbiamo dovuto ampliare quella che era stata l'offerta perché la richiesta è stata veramente tanta e attualmente rimangono 40 posti sui 400 disponibili inizialmente erano 350 ma abbiamo allargato quindi rimangono gli ultimi 40 posti per andare completamente sold out e sarà un'estate bellissima tinte giallo blu Amici di futuro giallo blu ora ci focalizziamo su quel che sta accadendo per quanto riguarda la categoria under 15 perché continua il percorso della squadra di Mirko Martinelli nei playoff fase nazionale i ragazzi di Martinelli hanno superato in gara secca il Napoli 1 a 0 la scorsa settimana e ora si sono regalati il doppio confronto pensate con il Milan tra l'altro nella squadra rosso nera under 15 gioca anche uno dei figli di Zlatan Ibrahimovic dunque sarà affascinante affrontare il Milan per tanti motivi per questi ragazzi che stanno davvero costruendo un percorso molto importante in questo finale di stagione allora andiamo a scoprire le emozioni soprattutto anche come si sta preparando la squadra under 15 a questo doppio confronto Milan che tra l'altro è il campione d'Italia in carica under 15 perché l'anno scorso ha vinto il campionato è diventato campione d'Italia sicuramente è una squadra che solo il nome è uno spettacolo pensare di affrontarlo e di avere sono stati molto bravi i ragazzi ad avere conquistato sul campo la possibilità di affrontare una squadra di questa categoria noi giochiamo tutte le partite nello stesso modo che sia quando abbiamo affrontato il Perugia o quando abbiamo affrontato la Fiorentina il Bologna l'Empoli noi giochiamo facciamo la nostra partita abbiamo sono stati bravi i ragazzi a creare una una squadra dove c'è un'identità e questo secondo me è la nostra qualità non cambiare la nostra identità mettiamo sempre dentro qualcosina a seconda degli avversari che affrontiamo però devo dire che finora insomma si sono sempre comportati bene è chiaro che adesso diventano partite finito il campionato a girone finito il playoff e adesso tutte le squadre poi mettono in campo chiaramente i giocatori migliori per cui diventa sempre più difficile andare avanti questa età qua è giusto a sognare sempre giusto giocarsi le partite a viso aperto è giusto andare in campo e pensare di giocarsi la partita si parte 0 0 quindi si parte alla pari poi si vede durante la partita se saranno come la teoria dice molto più bravi di noi ok tanto di cappello l'importante che andiamo in campo convinti di fare la nostra partita e dopo e giocare e soprattutto giocare e pensare divertirsi perché questo deve essere lo spirito primario nel settore giovanile uno deve andare in campo ma a divertirsi non vuole dire non non sacrificarsi voglio dire andare in campo per giocarsi la partita e giocarsela fino all'ultimo una bella emozione giocare contro una squadra di un certo calibro come il milan che comunque una squadra di serie a sono molto contento di affrontare una squadra importante spero di fare del mio meglio anche i miei compagni speriamo di raggiungere un buon risultato bisogna essere molto preparati mentalmente e bisogna dare tutto perché comunque è una squadra molto forte non li conosciamo bene però sappiamo che è una squadra molto importante e bisogna dare il massimo 100% tutta la partita senza mollare mai e lo farò io sicuramente lo faranno i miei compagni quindi sono fiducioso e spero in un buon risultato intanto raccontami quando avete scoperto che sarebbe stato il milan l'avversario come avete raggiunto se avete non so una chat di gruppo dove vi siete un po parlati quali sono stati con me sì sì esatto allora il messaggio l'ha mandato il capitano cesare vicini e in cui diciamo che aveva scoperto che il nostro avversario sarà appunto il milan sappiamo tutti che una squadra una squadra molto forte che si è classificata secondo se non sbaglio nel suo girone e diciamo che tutti siamo molto carichi e non siamo per nulla spaventati meci di futuro gialloblu anche questo appuntamento volge al termine in chiusura il nostro hashtag canarini si cresce mi raccomando continuate a condividere le nostre puntate a far conoscere anche sul web quello che i ragazzi del modena fanno quotidianamente mancano un paio di puntate al termine della nostra stagione rimanete con noi perché c'è ancora tanto altro da scoprire nel frattempo per oggi è davvero tutto un saluto ciao ciao